Moda, design, giornalismo, imprenditoria, una contaminazione vincente per promuovere il meglio della cultura Made in Italy. Sono questi gli elementi su cui si basa Tao Moda, una settimana di grandi eventi per valorizzare la Sicilia e creare nuove sinergie che siano un ulteriore fiore all'occhiello per le eccellenze del nostro paese. Grazie a tutti. Senza dimenticare la solidarietà. Quest'anno abbiamo puntato soprattutto a tutto ciò che può costituire l'eccellenza del Made in Italy e abbiamo iniziato proprio dalla storia del Made in Italy, ovvero l'omaggio allo stilista Gianfranco Ferré nel decimo anniversario della sua scomparsa con una mostra straordinaria. Abbiamo voluto poi incorniciare in questa straordinaria manifestazione dei nomi importanti che oggi segnano comunque il segmento fashion del Made in Italy, ovvero Mario Dice, Aquilano Rimondi, Light Motive e poi ancora Iorafi di Vicenza e ancora Salvatore Piccione. Quindi come dire, tanta eccellenza, tanta creatività, tutta racchiusa insieme su un unico palcoscenico che è quello appunto del teatro antico di Taormina, del resto protagonista proprio quest'anno anche del G7. Eccellenze del Made in Italy da Nord a Sud, sottolineate quest'anno anche dalla presenza, per la prima volta, dell'Alta Oreficeria Vicentina. Un fil rouge che unisce moda e design nel segno della qualità e della cultura del saper fare, tutta italiana. La qualità che Taomoda propone nell'abbigliamento noi la riportiamo nel gioiello. Le aziende saranno sei questa sera e inizieremo con Kaoro, poi ci sarà Carizia, poi ci sarà l'azienda mia Novello e di conseguenza Technigold 3S e Veneroso. E quindi siamo qui fieri e onorati di essere a Taomoda per la nostra prima volta. Tra volti noti della moda e dello spettacolo, serate di gala ed eventi charity, il Taomoda non dimentica il suo impegno eco-friendly, come testimoniano le aziende che hanno fatto della sostenibilità il loro fiore all'occhiello. Quest'anno ho scelto da moda un evento a tema green, Irite, un'azienda green a 360 gradi perché promuove il risparmio dell'acqua. Noi come azienda siciliana ci teniamo a essere convolti negli eventi glamour del Sud Italia. E ancora collezioni moda accompagnate da installazioni artistiche sui capelli firmate Tony Pellegrino. Una nove giorni che chiude di fatto il calendario annuale degli eventi moda in Europa e che quest'anno si farà ricordare anche per aver insegnito il presidente onorario della Camera della Moda, Mario Boselli, della nomina di presidente onorario di Taomoda. Diciamo che io sono stato piacevolmente sorpreso da questa proposta, ma dato che ho seguito da sempre il lavoro di Agatha Patrizia Sacone e l'ho apprezzato, non mi è dispiaciuto, anzi sono stato onorato di assumere questa responsabilità. Grazie.